Questa polemica che ha coinvolto il senatore Salvini su questo viaggio a Mosca? Mi sembra che sia una polemica del tutto inutile, senza senso, come tante cose che fanno addosso a noi che sono senza senso, come anche questi arresti di candidati un giorno o due giorni prima delle elezioni, potevano aspettare due giorni dopo. Quindi questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che purtroppo non è morta. Potevamo fare un passo avanti con questi referendum, ma ho visto i sondaggi, dice che non arriveremo al 30%, questo lo sapevano coloro che ci hanno detto di votare in un giorno solo, perché mai si è raggiunto il 50% il primo giorno di voto. E quindi arriveremo così e quindi questo sarà un ulteriore passo in avanti che non facciamo e resteremo nella situazione attuale. Siamo un popolo di...